Su questo però è un passaggio che non capisco, non devo leggerlo io però lo devono sentire tutti. Sì, carissimo Riccardo Maria Guarnieri, considerando che alcuni miei regali fatti che non sono stati volutamente aperti ed altri accettati ma poi restituiti, mi portano alla conclusione che è giunto il momento di restituirti l'anello. Tranquillo, la mia vita continua, fine, punto esclamativo, firmato Ida Platano. Eh, non avevo dubbi Maria, che riappariva come l'amore. E già comincia con una presenza domandomi Riccardo Maria Guarnieri, e già questa la dice tutta Maria, già mi prende in giro su questo. Poi comunque devo dire un'altra cosa Maria, ma proprio ridicola, ma proprio ridicola, perché scusa, a parte il fatto che ha il suo numero di telefono, è una donna che non vuole apparire, che vuole far perdere le tracce di sé, chiama privatamente. Ma chi ti ha detto che non vuole apparire vuole far perdere le tracce. No, per dire Maria, ma ancora sta pensando a Riccardo, ancora pensa a lui? Non credo, non lo so, non lo so, non le ho parlato. Ma Maria, da questo lo deduci, scusami. Se fa un testo del genere c'è qualcosa che non sappiamo. Dai. Vabbè, tanto Maria ha passato più tempo nello scatolino quest'anello che non ha il dito. So, ghi diciamo. Grazie a tutti.